Roma, 4 settembre 2012. Allora, come è andata il lavoro oggi? chiese Diana, morvendo una fetta di pizza stracolma di mozzarella. Le e Vanessa erano sedute su uno dei divani della sala da pranzo della billetta numero 34 di Biabiella. Kit, il gatto soriano, era coccolato alla sinistra di Diana e di tanto in tanto le dava un colpetto gentile con la testa per attirare la sua attenzione. Il televisore, acceso, trasmetteva a basso volume Australia. Vanessa si stinisse nelle spalle e ce n'è una smorfia. Insomma, si lamentò poco entusiasta. Non è che questo lavoro sia un granché. Ufficio, computer, computer ufficio. Due palle. E poi in onorari. Ti rendi conto che stanotte dovrò editare? Che se no domani non possiamo postare un cavolo sul sito? Maledetti pseudo giornalisti. Lo conoscono l'italiano o no? Lo parla meglio Sean. Diana scoppiò in un ristorino strozzato mentre cercava di staccare con i denti fili di mozzarella che dalla sua bocca colavano sulla fetta. Vanessa beve un sorso di vino. Oh, un complimento per mister Foulard, la canzonottiana, posando la pizza e pulendosi la bocca con un tovaglionino di carta. Non starà cominciando a piacerti? Lo sguardo assassino dell'amica la face ridere ancora di più. E piantala di chiamarlo mister Foulard. Preferisce Edward Cullen? Cretina. Diana le fece la linguaccia ed entro la seconda fetta di pizza. Sullo schermo Hugh Jackman sorrideva a Nicole Kidman. La conoscerò mai? Vanessa si strinse nelle spalle, se proprio ci tieni. Si fermano sentendo un rumore di chiavi e di porta che si apriva. Puoi conoscerlo anche ora? Sono curiosa. Diana era pensierosa. Teneva la fetta della pizza sospesa vicino alla bocca senza badarle. Secondo me sarebbe un personaggio interessante. Vanessa alzò gli occhi al cielo. Ma pensi sempre a lavorare? Diana sorrise. Sono una nerd che vuoi farci? E allargò le braccia spostando la fetta e facendo collare la mozzarella sui jeans stretti. Merda! No, kit buono! Il gatto era scattato sulle zampe e tentava di mangiare la mozzarella. Sean comparve in quel momento. La guardò con un'aria di disapprovazione e scosse la testa. Diana prese il tovagliolo e tentò di rimediare al disastro che aveva combinato. Kit! Ripetè. Il gatto le soffiò contro, poi balzò giù dal divano e se ne andò via sdegnato. Buonasera. La voce profonda e roca di Sean le fece voltare entrambe. Vanessa rispose a saluto con un movimento appena accennato del capo. Il viso di Diana, invece, si illuminò nel suo più adorabile sorriso morellesco. Good evening, Mr. Prescott. Nice to meet you. Lo salutò con un accento inglese pressoché perfetto. Sean la squadra dall'alto al basso, poi devoltò le spalle entrando in cucina. Diana sollevò le sopracciglia in segno di approvazione, mentre seguiva con gli occhi il suo fondo schiena stampato in un paio di pantaloni grigi di tweet. Sempre simpatico, commentò acida Vanessa a bassa voce. Magniacco, rispose Diana voltandosi a guardare l'amica. L'hai visto il suo culo? Vanessa alzò gli occhi al cielo seccata. Tu passi troppo tempo con Logan. Diana annui e sorrisi appena. Probabile. L'hai visto comunque? Ora capisco. È per questo che siete trasferita qui, nonostante quel contratto assurdo, vero? Potevi dirmelo che era così gnocco. Anche se... si interruppe e si portò una mano alla bocca, grottando le sopracciglia. È un'impressione... o l'ho già visto da qualche parte? E il suo culo? Diana scoppiò a ridere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.